Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Dai che è quasi finito l'anno, ma prima c'è ancora un amichevole della Juventus, si giocherà il 30 di dicembre e noi saremo qua a commentarla, prima su Twitch e poi su YouTube con il video post partita. Allora, ci sono un po' di cosine da dire perché ieri abbiamo parlato sì di quello che ha detto Agnelli all'Assemblea degli Azionisti e poi all'Assemblea degli Azionisti è intervenuto pure Luciano Moggi perché ovviamente noi abbiamo registrato mentre discutevano il tutto, quindi ce la parla di queste cose, io di Moggi sinceramente non ho voglia di parlare praticamente nel 2023, quindi direi di andare avanti, ho visto che tante persone sono rimaste gasate, altre intimorite, pietrificate da Luciano Moggi che parla, io direi semplicemente di andare avanti, Moggi è un azionista della Juventus e basta, nulla più, non è che c'è bisogno di tornare su temi, tematiche anche di molto complesse che probabilmente sono state trattate in maniera un po' troppo superficiale da tutti, un po' da tutti. Andiamo semplicemente avanti perché poi ha parlato pure Riva Bene e ha parlato di Di Bala e di Di Maria dicendo Di Bala ci aveva fatto richieste importanti pluriannali, abbiamo scelto di non rinnovarlo per andare su un altro profilo come Di Maria, questa storia che già conosciamo tutti è una storia anche questa un po' tortuosa perché se dobbiamo tornarci sopra se facciamo un salto indietro nel passato ricorderete che io ero assolutamente a favore del rinnovo di Paolo Di Bala perché un giocatore così importante per la Juventus, secondo me, farlo andare via parametro zero sarebbe stato un po' una follia diciamo che il suo apporto alla Roma fino ad adesso non è stato magico nel senso che anche lì ha avuto qualche problemino fisico che l'ha limitato e il suo contributo con l'Argentina è stato, non dico minimo perché non è vero perché comunque entrare, battere un rigore in finale non è facile abbiamo visto anche che comunque tutti quelli che solitamente vengono messi su per battere i rigori poi non fanno una gran bella figura credo che Di Bala sia stato l'unico dei rigoristi inseriti al Mondiale ad aver segnato quindi questa è una cosa importante da sottolineare però è anche vero che Di Maria fino ad adesso con la Juventus purtroppo non è incantato e ve lo dice uno che è fermamente convinto che Di Maria sia più forte complessivamente di Paolo Di Bala io credo che su questo non ci siano dubbi se devo scegliere l'ultimo giocatore per completare la mia squadra, il mio 11 titolare probabilmente prendo Di Maria su Di Bala credo che abbia dimostrato tanto negli anni è ovvio che lo stesso arriva bene e dice Di Maria lo prendiamo e facciamo un contratto breve perché sappiamo ormai che a fine carriere deve fare da mentore per i giovani io non so se questa funzione, se questa attitudine che hanno individuato Di Maria poi sia confermata in questo momento io non sono soddisfatto di Di Maria la Juve ma non solo in campo anche tante piccole cose nei comportamenti sarà che forse non mi è ancora andata giù quella partita col Monza in cui sicuramente Di Maria si fa espellere apposta o comunque più che apposta si fa magari trascinare dagli eventi però quei giocatori lì con quella caratura lì con lo status lì non possono farsi trascinare dagli eventi e complicare ancora di più il tutto quindi non voglio andare nel complottismo l'ho fatta apposta però magari non è stato fatto apposta è stato fatto inconsciamente ma quei giocatori lì non possono permettersi di perdere la testa quei giocatori lì devono essere dei leader tecnici e carismatici perché se no poi non ha senso e quindi su Di Bala e Di Maria sono tornati sopra probabilmente ognuno qua avrà sempre la propria opinione io Di Bala gli ho voluto tantissimo bene in questi anni alla Juventus è e rimarrà un giocatore importante per la storia della Juve cosa che credo non riuscirà a essere Di Maria a meno che in questa seconda parte di stagione poi non ci sarà una rimonta con vittoria dello Scudetto vittoria della Coppa Italia vittoria dell'Europa League con Di Maria trascinatore e protagonista e in quel caso allora potrebbe essere un giocatore in grado di entrare nella storia della Juventus nel cuore dei tifosi della Juventus credo che sia più facile invece ritrovarsi a commentare Di Maria tra qualche anno dicendo grandissimo campione è arrivato la Juve alla fine della sua carriera e non è stato in grado di replicare quello che ha fatto con altre maglie vediamo soltanto il tempo potrà darci la risposta così come per Pogba che io leggo continuamente ancora gente che dice Pogba è stata un'operazione scellerata ad oggi sì torno a dire ad oggi sì ma Pogba ha 4 anni di contratto quindi aspettiamo un attimo prima di tirare dei giudizi definitivi su Paul Pogba che non ha ancora messo piede in campo e sono il primo arrabbiato con Pogba il primo arrabbiato con Pogba ma non sono qui a dirvi che l'operazione Pogba è da bocciare completamente perché ci sono altri 3 anni e mezzo che ancora non abbiamo visto se al termine di questi 3 anni e mezzo Pogba avrà tenuto avrà seguito questa linea di rendimento allora sì sarà un'operazione sbagliata semplicemente però ad oggi andiamoci calmi andiamoci cauti andiamoci piano un attimo un attimo è davvero un attimo nel calcio lo sappiamo bastano due robe in fila e si cambia un po' tutte le percezioni che c'erano prima la notizia di oggi è che la Juventus starebbe pensando anche a McAllister centrocampista dell'Argentina se vogliamo avere proprio equilibratore inserito da scaloni all'interno della formazione titolare dell'Argentina post-Arabia Saudita credo che sia stato uno di quei giocatori insieme a Julian Alvarez che ha cambiato il volto dell'Argentina rispetto alla partita inaugurale persa e quindi credo anche che possa essere un giocatore che può valere qualcosina dato che è comunque un classe 98 è un titolare dell'Argentina campione del mondo giocatore importantissimo per aver inseguito poi no il successo finale ed è un giocatore che gioca in un club di Premier League quindi non credo che possa venire fuori per meno di 40 barra 50 milioni di euro quindi credo proprio che il nome di McAllister possa essere scartato secondo me a priori perché non credo che possa essere un nome davvero ponderabile dalla Juventus in chiave mercato di gennaio anche con un'eventuale uscita di Rabiot non credo proprio e poi io credo che sia anche necessario stare molto molto attenti a questi giocatori che fanno questa esplosione e vengano fuori durante i mondiali perché un conto sono un conto è lo stato di forma di quel mese in cui si disputano i mondiali e un conto invece è comunque dover ammortare il costo del cartellino e pagare lo stipendio a un calciatore in maniera pluriannale non sto dicendo che McAllister stia scarso assolutamente no anzi credo che sia stato davvero uno dei giocatori che ha fatto vincere il mondiale all'argentina che ha permesso a Messi di trascenare l'argentina sto dicendo che se devo pensare oggi di tirare fuori 50 milioni per McAllister probabilmente ci penso due volte penso che ci siano altri profili probabilmente in giro andare a prendere prima di McAllister che sicuramente è esploso col mondiale ma appunto sarebbe anche giusto fare un passo indietro nel senso prenderli prima che esplodano il mondiale cioè il bravo scout è quello che li prende prima non quello che lo prende dopo che si è vinto il mondiale grazie l'abbiamo visto tutti il mondiale infatti ieri ragionavo facevo un ragionamento su twitter e su instagram inerente ieri vi parlavo di Isco che non significa che l'avventus prenderà Isco però secondo me è molto più probabile Isco che McAllister per dirvi perché proprio perché Isco è un parametro zero McAllister invece è un giocatore che devi per forza di cose pagare devi pagare il cartellino e ieri il Liverpool cosa faceva annunciava il tesseramento di Gakpo e Gakpo ha fatto un mondiale atomico con l'Olanda a gennaio se lo vanno a prendere si parla anche di Enzo Fernandez che adesso potrebbe lasciare il Benfica già a gennaio e qualche squadra di Premier sicuramente andrà a bussare alla porta del Benfica dicevo c'è una differenza di tanto mentalità e organizzazione ma soprattutto economica tra Juventus e club di Premier e non solo tra Serie A e club di Premier e qualcuno mi ha detto ma l'anno scorso la Juventus comprava Vlaovic in questo periodo quindi dov'è questa differenza ragazzi la differenza è che la Juventus l'anno scorso per comprare Vlaovic cioè a Bentancur e a Kulusevski e ancora una volta alla Premier League perché sennò Vlaovic non lo comprava invece in Premier siamo abituati ormai siamo abituati che anche il piccolo club i 40 i 50 i 60 milioni che sia a gennaio che sia a giugno ti ritirano fuori e non gliene frega niente e fanno gli investimenti vanno a prendere i giocatori di primo pelo vanno a prendere i giocatori protagonisti vanno a prendere i giocatori di rivelazzena vanno a prendere i giocatori che sono scoppiati allora loro non gli interessa di dire il bravo scout che fanno anche quello comunque fanno anche quello ma lì non hanno problemi a dire Gakpo è esploso per il Mondiale me lo vado a prendere McAllister è esploso per il Mondiale lo teniamo dentro la Premier League Enzo Fernandez è riesploso perché era già esploso al Mondiale lo andiamo a tirare dentro sono queste qua le grandi differenze sono queste qua è vero che la Juve l'anno scorso prende Vlaovic a gennaio verissimo ma per farlo cosa fa? Bentancur e Kulusevski devono salutare andare in Premier che per me non è stato un sacrificio così grande io lo rifarei cento volte con quello scambio tra virgolette tra Bentancur, Kulusevski e Vlaovic però Juventus è stata costretta a cedere in Premier League e lo sappiamo che è una vera e propria Superlega non nel senso della parola della Superlega che volevamo fare ma è una vera e propria Superlega non hanno necessità di cessione possono comprare noi invece che quei soldi non ce li abbiamo dobbiamo probabilmente monitorare e anticipare quindi non andare a prendere il McAllister non andare a prendere l'Isco andare a prendere il giocatore che potrà esplodere infatti io mi ricordo che quando si diceva Di Bala Di Maria Di Bala non rinnoviamo andiamo a prendere Di Maria era venuto fuori anche il nome di Unle Alvarez che poi ha preso il Manchester City che questi in attacco hanno la prima punta che è il primo del mondo e Holland che è probabilmente la prima punta nel senso della parola più forte del mondo secondo me ci sono delle differenze hanno il backup di Holland che è la punta campione del mondo ragazzi Allegri ci va a categorie io vi dico differenze io vi dico differenze sono due sport diversi noi e loro sono due sport diversi poi faccio un ultimo esempio per concludere il discorso Premier League anzi non proprio ma ve lo devo fare Varane gioca la finale di Coppa del Mondo e l'altro giorno era già in campo con lo United una settimana dopo e noi siamo qui che sono tornati ieri i brasiliani che sono usciti a gli ottavi e quarti siamo qui a dire no vabbè Cova Cremonese Rabiot Di Maria i Paredes non ci sono Di Maria l'ho visto che ha messo le foto con i suoi amici che sta facendo delle grigliate Varane già in campo e beh possiamo continuare a parlare vi faccio l'ultimo esempio perché ieri Agnelli ha tirato fuori il nome di Romero dicendo c'è un giocatore per cui abbiamo subito una forte critica che è Romero ma in quel momento non avrebbe mai visto il campo perché avevamo Bonucci Chiellini De Litt ed Emeral che sotto questo punto di vista può anche essere vero anche se non rendersi conto che Bonucci e Chiellini sono sul via del tramonto così erano di Sarri erano di Pirlo quindi parlando dell'altro ieri bisogna anche rendersi conto che comunque ci sarà un decadimento da parte dei giocatori importanti che hanno scritto la storia della Juventus ai quali io sarò sempre riconoscente soprattutto Chiellini più che Bonucci perché a me quella roba del Milan ancora non va giù completamente però è ovvio che non posso non citare anche Bonucci in questi anni di storia vincente della Juventus però non rendersi conto che erano a fine carriera ma quello ci può stare mi sento comunque sicuro col mio pacchetto però tu Romero lo prendi perché il Genoa ti prende Sturaro a 18 milioni che ancora qui la gente qua dire eh ma la Juventus ha venduto Sturaro a 20 sì ma la Juventus ha preso anche Romero a 20 e c'è stata una sorta di scambio tra Sturaro e Romero non si dice mai perché che non si dice mai e una volta che te lo pigli una volta che te lo prendi dato che al Genoa tanti dicono non era inguardabile sì io l'ho avuto anche al Fante Calcio non è che fosse proprio un fenomeno ma quel Genoa non era spettacolare quindi ci sta che un giocatore che aveva probabilmente 20 anni o giù di lì forse anche meno non potesse tirare sul Genoa non potesse salvare le sorti del Genoa la cosa che mi fa arrabbiare non è tanto il non ci credo lo compro che tu poi lo regali e fai una minusvalenza addirittura di 5 milioni perché lo vai a cedere a meno del prezzo che l'hai pagato quindi ci vai a perdere dei soldi su Romero cioè quella roba lì secondo me è follia la roba lì per me è follia io avevo fatto un video sul canale e l'avevo chiamato la peggiore operazione del mercato la storia dell'Iventus perché per me Romero è quella roba lì non vuoi puntarci perché sacro santo ma regalarlo così no beccatelo e anche lì probabilmente perché perché si doveva fare un favore all'Atalanta che si va a prendere Romero facciamo un favore all'Atalanta gli diamo Romero no perché adesso in questi giorni si parla di plus valenze della Juventus e quindi la Juventus indagata quella si stanno sempre solo tirando fuori i casi in cui guarda caso la Juve è stata aiutata dagli altri club non si tira mai fuori i casi in cui la Juve prende un giocatore come Romero che non si sapeva chi fosse dal niente al Geno a 20 milioni non si prende fuori la minus valenza stessa di Romero poi all'Atalanta sono cose queste che danneggiano la Juventus non è solo il Sturaro a 20 queste le ignoriamo non le vogliamo mettere nel calderone il Kuluseschi che la Juve paga 40 milioni all'Atalanta non le lo mettiamo nel calderone no ci sono delle squadre che hanno fatto affari con la Juve in questi anni non sono nemmeno indagate allora io mi chiedo di cosa stiamo parlando in questo momento altro che parlare di Moggio io parlerei più di queste cose perché Juventus sì sicuramente con le plus valenze ha potuto scrivere dei valori gonfiati a bilancio ma ci sono state diverse operazioni legate alle plus valenze perché dovevi fare il favore di ricambio la Juventus l'hanno danneggiata la Juventus l'hanno danneggiata perché non ne parliamo di queste cose mistero della fede annunciamo al tuo morto Signore